Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia è la morte Siamo pronti alla morte, l'Italia è la morte Compaio Fring, siamo in mezzo a questa stanza Pronto Antonio, è agghiacciante, leva sto cazzo di Eter, agghiacciante Ragazzi uno ce ne è in derista, ragazzi, uno, fa pure ragazzi Ciao Paolo, come è la situazione? Ehi, perì, perì, al di là delle nostre situazioni non siamo fisiologici, eh E' messa male Siamo rovinati ragazzi, è buono che si finisce e qua siamo consumati, vabbè che con un bariggio possiamo Si potrebbe fare qualcosa in più, o no, va bene, qualcosa in più si potrebbe fare Finciamo, finciamo, sarà come il ridotto, eh sì Ciao Casa Azzurri ragazzi, un collegamento, vedi, la Casa Azzurri Ragazzoni, questa è la situazione Prende quasi, cambia, 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 cambia Comunque c'ha pure del gioco E' messa ragazzi E' messa ragazzi E' messa ragazzi Azzurri Forza giù, no, quello sì, forza giù, perché ha tirato qualsiasi bandiera Sempre forza giù Che ho chiamato Antonio, eh comunque Adesso fa scelere direttamente a Zazza C'è la Zazza che la faccia di direttamente Guardate, eh, lo guardate quasi in diretta E' uscita solo la palla Un primo tempo di intervista Adesso è Zazza Hai visto la Zazza? Eccolo qua Ciao Fri Ed era la cosa tenuta Non mi chiede un cazzo L'unico da una torre Spaggia un pochettino i ragazzi di merda Niente, niente, niente E' Polino, com'è la situazione? Sì Come? Gli occhi esprimono tutto Ninja, come vai? Questa è una torre di Gigi Grazie 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 E poi Non ho capito un cazzo Che è successo? E dall'inizio per di poi E' Derda e mezzo a fare E' Derda E' Derda E' Derda E' Derda E' Derda Guardalo Guardalo Oh E' lui quello gioca nell'interno quello gioca nell'interno ma vaffanculo lo finticavo fino a 5 secondi fa chiedi scusa Eder chiedi scusa Eder sei bastardo grande Eder facciamo i 32esimi ciao Frank siamo alla fine ragazzi non mai fatta guarda nazionalità grande Eder fischia fischia è finita è finita ha preso il pallone ma vaffanculo ma vaffanculo vedremo se prendiamo pallone vediamo vediamo è finita Eder 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 ha fatto tutti quindi combattere tu l'hai criticato combattere dice perché l'ho criticato allora certi giocatori vanno criticati così per spronarli per spronarli può essere può essere un'analisi quindi dal momento che lo stavo indicando ha fatto gol ho il teccato dove gioca e quindi forza Inter dai paolo cavolo che vuole 100 euro forza daniele daniele un saluto per gli amici del punto di sassà il punto di sassà il punto di sassà il punto di sassà la chiave dai ragazzi dai 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 salutiamo gli amici ragazzi comunque qua ormai ci sono le cingue che sono per andare a correre guarda qua dai 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 io voglio il televoto per eliminare Francesco Scherma appunto quindi nella prossima partita che sarà contro l'Islanda no no non andremo ad andare da casa no proprio una partita cioè non lo vuole più ragazzi boh dai commentate noi vi ascoltiamo poi li leggeremo la prossima la prossima partita ragazzuoli vi saluto sempre con l'Italia nel cuore dai dai